L'azienda unica del trasporto abruzzese, TUA, fallisce su tutti i fronti. Ancora una volta la propaganda di Camilo D'Alessandro e della Giunta che rappresenta sono smentiti alla prova dei numeri. Lo denuncia il consigliere regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle che nell'illustrare le proposte dei grillini parla di grande fallimento della Giunta d'Alfonso sotto tutti i punti di vista e di una grande opera di carta che si regge sulle chiacchiere. I fatti sono una diminuzione dei servizi e un bilancio precario. Criticità secondo Pettinari sotto tutti i punti di vista. Personale ridimensionato per ridurre i costi della produzione, presenza in bilancio di crediti verso imprese controllate, crediti verso clienti ed enti. Sui servizi poco è stato fatto per incrementare i ricavi del traffico dei viaggiatori e ridurre le irregolarità. Ed è bassissimo anche il numero degli abruzzesi che usufruisce di TUA. Debiti per 37 milioni di euro verso i fornitori e per 32 milioni per ratei e risconti. Una spesa di 26 mila euro per organizzare la presentazione di un utile di esercizio da 19 mila. Domenico Pettinari. Abbiamo fatto uno studio molto dettagliato sui bilanci prima della fusione e dopo la fusione, quindi con TUA. Ed è venuto fuori un quadro allarmante perché con TUA aumentano i debiti a dismisura, aumentano le spese che ha TUA rispetto alle tre società che si sono fuse. Quindi aumentano le spese per lubrificanti e ricampi, aumentano le spese per pneumatici, sono aumentate le spese per gli indennizi assicurativi e sono aumentate le spese per la manutenzione del settore ferroviario. Non solo, registriamo anche un aumento dei crediti che TUA ha nei confronti delle società controllate e degli enti controllanti. Ma la cosa grave qual è? È che alcune di queste società controllate hanno chiuso i propri bilanci in profondo rosso, quindi difficilmente riusciranno ad onorare questi debiti che hanno nei confronti di TUA. TUA ha messo questi crediti come post attiva in bilancio, ma se non riusciranno ad onorare questi pagamenti, poi si svaluteranno e quindi ci sarà molto probabilmente un negativo in bilancio, cosa molto grave. Poi cosa registriamo? Registriamo che a fronte di una diminuzione del personale viaggiante hanno assunto nuove figure direttoriali, un nuovo direttore generale, un direttore amministrativo e un direttore delle risorse umane. Con l'autistipendi hanno aumentato i premi di risultato e a fronte di un taglio di circa 200.000 km di percorrenza abbiamo registrato un minore incasso di circa 600.000 euro, quindi falso quando ci raccontavano che si tagliavano esclusivamente i doppioni perché sono entrati 600.000 euro in meno, quindi significa che tante persone non hanno preso più l'autobus e quindi non hanno pagato. Grazie a tutti.